risca rossella da natania o da rana è passato ciabattato figlia no a natania perché mia figlia adesso stanno andando a roma perciò quando ritorna a rana si ha un po di vacanza adesso voi sapete perché rido perché quelli che ci seguono in differita poi c'è non sanno che abbiamo i nostri cinque dieci e volte quindici minuti prima che chiacchieriamo tra noi che ci aggiorniamo una l'altra comunque questo shabbat è come dicevo prima che ho superato me stessa con tre ore di camminata e mezz'ora di dici prima e dopo shabbat nell'arco di 24 ore ma valiva la pena perché ho pregato moltissimo per tutti voi ogni ticata e alberka tuanin e che ascemmi ascolti le metri lott ho ricordato la mamma della nostra carissima e amata graziella su una mia daniela la mamma che grazie la mamma è stata c'è stato funerare come sapete venerdì ed è stata sepolta di venerdì pomeriggio che chi viene sepolto di venerdì pomeriggio va direttamente in ghaneden e io purtroppo non l'ho conosciuta come avrei voluto ma perché via del covi dei casa di riposo non facevano entrare nessuno se non i parenti stretti eccetera però una cosa so la filia e i nipoti che ha portato al mondo è già quello veramente ha meritato di sicuro il ganeden e dunque anche oggi le dedico la lezione le lui e adesso grazie alla ioshevet shiv'a amlano dopo chi è nei paraggi e chi può dunque tra gli anziani dei chassibim del primo rebbe chabad dell'alterebbe e allora i grandi appunto dicevano che la l'udienza privata il tet a tet no che definito come che che significato ha allora per definire questo tet a tet questa udienza privata correbbe primo e poi gli altri e hanno usato tre termini termine chiarezza designazione e un nome e ovviamente a questi tre termini ci sono le fonti che sono in shakalim sei due ebamot sessantadue a ebreshitrabave allora cosa significa che l'idea proprio stessa della yahidut yahidut ripeto udienza privata tet a tet volsadik dunque l'idea della yahidut è per ogni persona chiarire il proprio status e disegnare un modo di come servire a shem che congeniale alla persona in modo poi dai tram da intraprendere una svolta una svolta che porta ad allontanarsi quanto di più da tutto quello che è la negatività e invece sviluppare e alimentare diciamo i buoni tratti caratteriali della che a scienza donato e anche legarsi abbiamo parlato di unione dunque chiarezza abbiamo detto chiarire il servizio divino che ogni persona secondo la propria anima deve intraprendere poi designazione dunque allontanarsi dal male alimentare le le buone i buoni tratti caratteriali positivi e unione unirsi e legarsi diventando appunto parte dell'unità consacrando dunque tutto se stesso tutti i propri desideri all'uno che è a cadosh baruchu dio a men che ne sono presto per tutte noi passiamo subito al come stai cara il viso che non sono abituata allora siamo a pagina 827 cominciamo la nuova parasha di kitavo siamo al capitolo 26 da passo 1 a passo e qui rasci precisa non quando entrerà nel paese ma faccia appunto dice solo quando entrerà nel paese vuol dire dopo gli anni sapete che sono voluti sette anni per conquistare erezza israel e poi altri sette anni per insediarsi dunque traci precisa che una volta insediato che sarà il paese avrai suddiviso anche l'avrai suddiviso appunto tra le tribù ti starai stabilito solo allora dovrai prendere l'offerta delle primizie del prodotto e qui anche rasci precisa non qualsiasi prodotto ma ma nel preciso delle sette specie di frutta della terra che avrai portato paese che c'è appunto chiarato dunque sette specie di eriz israeli e metterai nella cesta dunque ci dice anche come presentare queste primizie poi una volta che hai preso le primizie di questi sette frutti di eriz israeli poi li metti nella cesta ti devi ritare nel luogo dove che ha scena prescelto per farvi il suo nome che è ovviamente vediamo questi due pzuchim Mitzvah importantissima quella dei Bikurim perché come sappiamo tutto quello che è la nostra primizia del primo genito il primo frutto le prime ore della giornata tutto quello che è diciamo primo e anche di meglio che abbiamo dobbiamo consacrarlo al primo che è a Kadosh Baruch Hu all'uno ecco perché si usa Shacharit subito e poi anche nelle scuole quando si studiano diciamo sia materie laiche che ebraiche allora le materie laiche di solito si dedica alle ore del mattino dove sia più freschi dunque il meglio col chel e vlashen dunque il meglio bisogna dare a Kadosh Baruch Hu e non solo l'ho letto anche era una bellissima spiegazione che quando uno no semina rapianta un albero eccetera e il primo frutto è tentato no assaggiarlo no aspettato no finché cresce allora primo frutto invece dunque questa Mitzvah insegna anche non solo di dare meglio che abbiamo a Shacharit ma anche di trattenere i propri istinti perché l'istinto umano muove il primo frutto e vuole consumarlo invece no filo rosso come sappiamo e consacrarlo ad Asher dunque abbiamo frutti dei sette specie mettere nella cesta recarsi nel Betamigdash andare a Sutrae dal Kohen che sarà in servizio in quei giorni come sottolinea Rashi e una volta all'anno devi fare questa dichiarazione proprio testualmente pronunciare queste parole oggi dichiaro all'eterno il tuo signore che grazie al suo aiuto sono giunto nel paese che ha maggiorato i nostri padri che avrebbe dato a noi dunque il fatto che io posso portare le primizie a Betamigdash vuol dire che sono in vita vuol dire che sono in salute vuol dire che la mia vigna e il mio raccolto ha avuto buoni frutti e tutto grazie ad Asher dunque è riconoscere la mano di Asher in tutto dunque vediamo tutto l'iter come abbiamo detto non tutti i frutti sono soggetti all'obbligo delle primizie ma solo le sette specie della terra di Israele molto importante poi al Kohen come abbiamo detto il Kohen che vive nei tuoi giorni dunque secondo il Kohen che sarà nei tuoi giorni lo vediamo anche indietro in Devarim 17.9 poi io dichiaro oggi questa dichiarazione che abbiamo appena letto deve essere una volta all'anno non due volte all'anno come lo riporta il Sifri e poi questa tenufa dunque questa agitare no la la cesta il Kohen pone la mano sotto quella la cesta dei proprietari e compie l'atto dell'agitazione della cesta ok dunque per entrare nel dettaglio e qui quando Pasuk 5 farai una dichiarazione anche ad alta voce che è quest'altra che dice farai una dichiarazione che è una mitzvah a sé tra parentesi 606 e davanti ad ascento Dio dice la vanna l'abano l'arameo voleva distruggere mio padre e che si intende padre padre del popolo ebraico che sarebbe Jacopo e la sua pena continuò perché poi come dice Rashi dovette scendere in Egitto e vi dimorò con un piccolo nucleo di 70 persone vi ricordate all'inizio di Huma Shemot quando si fa la lista di quelli che sono entrati in Egitto allora c'è la lista dei nomi di Fidelacoli e dice in tutto erano 70 dunque e dunque la van zio prima e poi suocero di Yaakov vuole distruggere Yaakov e la sua famiglia dunque anche dei suoi figli i suoi nipoti però e infatti loro entrarono solo con un piccolo nucleo di stante persone però lì in Egitto divenne un grande popolo forte e numeroso ricorda che gli egiziani poi ci maltrattarono ci umiliarono ci imposero un lavoro un lavoro gravoso noi preghiamo rivolti ad Hachem dio dei nostri padri e Hachem ascoltò la nostra voce e vide la nostra umiliazione la nostra fatica la nostra oppressione al che ci fece finalmente uscire dall'Egitto con mano forte con braccio disteso con grande turbamento con segni e con prodigi ci ha condotti in questo luogo appunto sede del betamidash a Yerushalayim ci ha dato questo paese la terra di Israele una terra che stila latte e miele e adesso appunto io porto la cesta contenente la primizia dei frutti della terra che Hachem mi ha dato e tu dopo una nuova turnufa dice Hachem la deporrai davanti a Hachem ti inchinerai davanti a Hachem tu dici quando questo avverrà tra Shavuot e Sukkot ti rallegrerai di tutto il bene che Hachem ha dato a te e alla tua famiglia sia tu che il e il convertito queste psuke vi ricordano sicuramente la Haggadah perché le ricordiamo nella Haggadah di Pesach ... Grazie a tutti i nostri amici di chi è bello. Ve l'ho un po' cantato come lo cantavamo noi con mio papà l'Avashalom. Ieri ho fatto anche una lezione al Tempio e l'Ilunishma con mio papà anche e la mamma di Graziella e anche il padrone del Tempio che è mancato appunto un anno ero di fa. Allora riprendo giusto velocemente un paio di Rashi, dunque nel dettaglio Lavan cercò di sterminare tutti quanti quando inseguì Jacob e per il fatto che pensò questo Hashem lo scrisse come se lo avesse compito cioè di fatto è vero che erano solo in settanta però comunque non furono distrutti come avrebbe voluto Lavan. Allora perché è scritto l'Arammeo anientava mio padre di fatto non l'ha anientato perché da le nazioni del mondo quando uno pensa di fare una lezione malvagia e di fatto Hashem l'ha impedito però è considerato come se l'avesse fatto da noi no cioè se vogliamo fare qualcosa di male ma non ce la facciamo alla fine farlo Boruf Hashem non è considerato e il contrario se vogliamo fare una mizvah poi per causa di forza maggiore non siamo riusciti a farlo preciso per causa di forza maggiore e allora è considerata comunque una mizvah questo tra parentesi ma una parentesi importante dunque questo come diciamo anche questo episodio di Lavan lo troviamo nel trentunesimo capitolo del libro di Bereshit ok poi abbiamo abbiamo detto come l'offerente prende le primizie abbiamo detto dopo che il Kohen le ha deposte poi le tiene in mano mentre fa la dichiarazione quindi compie una nuova agitazione e ultimo passù che abbiamo letto gioirai di tutto il bene da qui i nostri in Talmud Masachet Pesachim trentasei vi hanno dedotto che la dichiarazione relativa appunto alle primizie deve essere compiuta soltanto nel tempo di gioia cioè da Pesach fino a Sukkot perché l'uomo in tale periodo appunto raccoglie il provento i suoi frutti il suo vino il suo olio invece dalla festa di Sukkot dalla festa delle capanne in poi si presentano le primizie ma non si fa la dichiarazione precisa Rashi anche Rashi dunque precisa un'altra cosa importante che anche di Bimano l'obbico di presentare le primizie si hanno piantato qualcosa nelle 48 città destinate a loro tra le 12 tribù e anche il Ger anche lui è tenuto il convertito a fare questa presentazione ma non fa la dichiarazione perché nella dichiarazione è scritto sono entrato nella terra che Hashem ha giurato i nostri padri e visto che il Ger è subentrato dopo dunque non è discendenza diretta da Jacopo Avino allora non può dire questa terminologia anche se a tutti gli effetti considerato un Yehudi detto ciò passiamo al Tania fantastiche ragazze allora oggi appunto siamo 10 di Yar siamo pagina 235 Kufiutret allora qui parla allora ricorda vi avevo già spiegato che per essere ebreo come tutti sappiamo deve avere la madre ebrea oppure uno passa l'inter della conversione ok queste due condizioni ma in realtà il vero ebreo è colui che ha tre segni come l'animale per essere casciare ha bisogno di tre segni ruminante e zocolo spaccato così l'ebreo per essere veramente considerato ebreo a tutti gli effetti deve avere tre segni misericordioso che umile e che fa del bene dunque pensa al prossimo altruista e come si dice vabbè tutti i tratti caratteriali che sono legati alla bontà e all'altruismo e al fare del bene dunque come dice Kultanian si sa che l'ebreo per natura ha appunto è portato alla misericordia alla bontà a fare del bene visto che le neshavote derivano direttamente dagli attributi divini di cui l'attributo della bontà che sopravvale sull'attributo del giudizio e del rigore e del simzum e però l'atzdakka ecco tornando all'atzdakka che appunto deriva da questo attributo divino di Hashem della bontà è considerato vi ricordate abbiamo cominciato a parlare parlando di ma'aseatzdakka no eravamo partiti a fare la dunque la distinzione tra il ma'aseatzdakka l'atto dell'atzdakka che è shalom pace e il servizio il lavoro dell'atzdakka che porta serenità tranquillità ok per sempre allora qui torniamo al termino di ma'aseatzdakka l'atto dell'atzdakka perché quando si parla di atto dice il malatania si parla di qualcosa di già stato attuato o che si attua in modo perenni dunque anche qui l'attributo di chesed e di rachmanutu dunque di bontà di misericordia che è parte dunque è stata proprio inculcata nell'anima di ogni ebreo da quando è creata e allora come sappiamo che Hashem ha soffiato il soffio di vita e da dove ha soffiato dal soffio interno dunque dalla sua emidot e dunque questo ma'aseavodà abbiamo dunque questo termine di ma'aseavodà e avodà che quando si parla di avodà dunque di servizio di lavoro dunque qualcosa che richiede sforzo no? e in questo caso uno sforzo anche enorme contro natura proprio per esempio quando uno non è che studia Torah perché è così ma in piena estate in pieno caldo in piena giornata in pieno commissione a destra e a banca in pieno a tutto si ferma e studia Torah e dedica questa mezz'ora ora e ognuno quello che dedica Hashem questo è uno sforzo veramente in mani e così quando fa una mizvah quando fa la tefillah anche in mezzo a tutto fermarsi e andare e pregare chi in casa chi al tempio e cercare di concentrarsi così anche nel dare sedakah so con il sudore della fronte e darli ad altri e anche molto di più di quello che può e infatti come conclude oggi dice fino a cento volte e questo per quanto riguarda l'Italia di oggi poi continueremo e concludiamo col tehillim scusa Sara solo una domanda i tre segni erano misericordia bontà e il terzo qual era? no rahmanim baishanim e gomle chassadin rahmanim dal termine rahmanut dunque misericordia baishanim letteralmente in ebraico modello vuol dire un oggi in ebraico dice baishan vuol dire timido ma non nel senso di timidità ma nel senso di umiltà di sottomissione umiltà e gomle chassadin l'igmol chesse è fare del bene fare chesse del bene fare del bene che può essere dare sedakah o dire dedicare il proprio tempo dedicare i propri soldi dedicare la propria persona aprire la propria casa e la vista è lunghissima dunque il fare del bene ok ci mancherebbe vai oggi ne abbiamo dieci di e null e si va dal peric cinquantacinque a cinquantanove compreso cinquantacinque a sessanta fantastica allora leggiamo il primo che nel primo se vi ricordate abbiamo due belle canzoni che c'è il padabed shalom nafshi soprattutto che ogni mese c'è circa ve lo mando a parte nei periodi che non si può cantare allora leggiamo insieme questo pere fatemi ribere d'acqua non rifaccio la bracha ogni volta perché l'ho fatta appena prima della lezione preciso allora leggila in italiano e concludiamo con questo pere che poi verrà banito ovviamente il direttore del coro sulle ginnotte canto di david porggio orecchio oggio alla mia preghiera e non essere indiferente alla mia supplicà restami ascolti rispondimi nel mio dolore tianko e gemo per il grido del nemico per l'opressione del malvagio perché essi mi accudano di malvagità e mioggiano con furore mi col oyev mi pene akkatt rasha kiamitu alai aven uv'af isttemu libi achil be tierbi ve aimot mavo naflu alai terrore spervento mitlendono e impanico mitol piushe ir avarad yavo vi pate chasseni palatsut e dico oh se qualcuno mi disse ali come una colomba volerei via e ripoderei e questa è la canzone alla sfarad che vi mando di solito va omar mi it telli ever kajona a uffa ve escona ecco me ne andrei molto lontano e per notere nel deserto sela roberei questo salvezza dal vento e dalla tempesta allora facciamo fino a qua in italiano poi concludo in ebraico ok vala adonei palag lishonam kira iti chamas veriv bair yomam walaila yessu bevuo al chomotia v'even v'amal v'kirba habubot v'kirba v'lo yamish merfoba tuch v'merma kilo oyev yecharfane v'asah lo messanee alai v'adid v'ashter mimei v'ata enosh k'arki alufi v'miudai asher yachtav namtik sot v'b't v'aluhyv maalek the Ragesh yashimav v'tal holyמו yradush ol haim kira ok v'bat v'bam v'商 v' v'abub D đã v'chalom w h'si c'av ki Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.